la femmina Fides e Trazio partiti in questo momento i cavalli della terza corsa nessuno che vuole andare davanti ci va di inerzia Irishman Mark che al momento è quello che capeggia la serie di concorrenti, in seconda posizione al suo esterno c'è la giubba viola di Golden Gepard dietro a questi si posiziona anche Tessidora, poi Biancoconiglio poi ancora in quinta c'è il resegone Fides e Trazio e Nautilia che chiude il gruppo gruppo che a questo punto si sta cominciando a sfilacciare con Irishman Mark che però rimane leader della corsa senza esagerare con il ritmo, il suo interprete si guarda alle spalle per capire se c'è qualcuno che possa invece andare davanti a fare l'andatura Golden Gepard è in seconda posizione, in terza c'è Tessidora, poi in quarta seconda corsia Biancoconiglio poi la favorita Fides e Trazio con la giubba verde, maniche nere e cap arancio ed ancora resegone e Nautilia che chiudono il gruppo questo è il tema della gara con Irishman Mark adesso affiancato da Golden Gepard che tenta di velocizzare un po' l'andatura in terza posizione ancora c'è Tessidora a contatto comunque con questi a tre quarti a sua volta Biancoconiglio in quarta posizione poi Fides e Trazio, Resegone e Nautilia con il gruppo che in questa fase è abbastanza raccolto in circa 10 lunghezze Irishman Mark guida ancora la compagnia quando i cavalli sono a metà curva una sorta di falsa andatura, in seconda posizione c'è Golden Gepard in terza c'è Tessidora, Biancoconiglio, Fides e Trazio, Resegone e Nautilia con la corsa che adesso non ha subito ancora nessuno scossone, cavalli che entrano in dirittura si comincia a fare sul serio, Irishman Mark è in vantaggio al suo esterno c'è Golden Gepard che ci prova ad insistere in terza all'esterno Biancoconiglio la cui schiena è presa da Resegone ancora più all'esterno c'è Nautilia, Tessidora per via interna e così come Fides e Trazio alle intersezioni delle piste, Biancoconiglio in prima una brusca accelerazione passa in vantaggio superando Irishman Mark ancora vitale Golden Gepard che cerca spazio, Resegone che si presenta bene ancora più all'esterno c'è Nautilia, questi che si staccano in lotta con Resegone dal centro della pista che tende a passare in vantaggio al suo esterno c'è Nautilia, ancora vitale all'interno Irishman Mark a 200 dal palo però Resegone scatta, deve parare l'affondo però esterno che gli è portato da Nautilia, al momento l'unica minaccia è rappresentata dalla femmina Resegone riparte sotto gli attacchi di Nautilia, 100 dal palo Resegone deve parare l'ultimo a fondo di Nautilia sul traguardo, i due sono molto vicini dobbiamo rivederla terzo posto Irishman Mark e su questo non ci sono dubbi rivediamo le battute finali con Resegone che ad un certo punto passa ma subisce la ripartenza del bottom weight Nautilia vediamo un po' palmo a palmo se è riuscita quest'ultima a recuperare completamente il gap nei confronti di Resegone è molto stretta con Resegone all'interno, Nautilia all'esterno l'impressione visiva ci dà forse un leggero vantaggio su Resegone ma chiaramente dobbiamo attendere il verdetto del giudice di arrivo è tutto per la terza da Roma grazie a tutti grazie a tutti